Buonasera a tutti siamo al Bounty Rimini con l'amico Ozznechnib come avrete capito il nostro amico parla al contrario proveremo proveremo la frase l'ammutinamento del bounty di Marlon Brando al contrario non pensate che io vi lascio non vi illudete non li vete dunni in qualunque su di ciotana vi nascondiate ci sarò io dietro di voi con una corda in mano un momento portatevi la bandiera non mi serve la bandiera non mi serve la bandiera rongis nizisk grazie a teo al contrario di voi la oiratno kidiob o ancora una parte oa rokna anwaitap grazie mille e zar kennim